La squadra mobile della questura di Salerno ha proceduto all'arresto di Pietro Salvio per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la riscostruzione operata dalla polizia giudiziaria, il pusher, mentre si trovava all'interno di una sala scommessa nel quartiere Torrione, a seguito del controllo, veniva individuato in possesso di 18 involucri contenenti hashish e della somma di 200 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, nonché presso la sua abitazione di materiale per il confezionamento e la somma di 300 euro. Nel corso del controllo, il pusher tentava di darsi alla fuga, lanciando una sedia all'indirizzo degli agenti, colpendo uno di loro ad una gamba. Grazie a tutti.